Salento Finibusterre Sei in questa cornice di Borgo Ignazia dove è stato girato Viaggio Sola però a quanto ci dicevi non hai potuto girare qui delle scene No questo ormai è un tormentone che faccio a Maria Soletto Ignazzi perché in realtà quando ho letto il copione ho detto Ah ma che bello questo film è girato tra Marrakesh, Berlino, Parigi Dico ma io dove girerò? A Piazza Vittorio a Roma Per cui adesso gliela sto facendo pagare quindi ogni volta che facciamo la promozione di questo film e ci sono queste cose io pretendo di esserci E mi sono già innamorata di questo posto Almeno questo festival è un'occasione per entrare anche tu in questo spazio magico bianchissimo di Borgo Ignazia Quali sono le tue sensazioni anche prima di andare sul palco questa sera? Guarda la sensazione di tranquillità Cioè proprio oggi dicevamo appunto con Margherita, con Fabrizia che dormiamo, mangiamo e c'è veramente un'atmosfera di pace Credo che sia anche l'ubicazione fortunata appunto E questa sera, non so io ogni volta che devo salire da qualche parte sono inadeguata e molto emozionata quindi poi non so lo vedrai Sei anche protagonista di una fortunatissima webserie, forse la prima veramente insomma globale in Italia Ci puoi raccontare qual è l'esperienza, se c'è qualche differenza rispetto al tuo lavoro da attrice? Come da attrice, come esperienza da attrice Allora guarda intanto c'è in realtà un collegamento tra Viaggio Sola e Una Mamma Imperfetta Perché c'è sempre Ivan Cotroneo come sceneggiatore Anche se Nella Mamma Imperfetta è anche regista È un esperimento nuovo perché è un minutaggio che è già stato fatto Però con degli altri criteri, magari con una macchina fissa Mentre noi invece l'abbiamo girato proprio cinematograficamente C'è Bigazzi alla fotografia, Ivan ha fatto insomma una regia veramente come se fosse un piccolo film Per cui no, non ho trovato in realtà differenze Forse semplicemente la velocità Nel senso che abbiamo avuto un tempo ristretto per farla e quindi correvamo un pochino Ma questo può assomigliare anche un pochino alla lunga serialità Io con Ivan avevo già lavorato in Tutti i pazzi per amore Per cui mi piace molto tra l'altro la sua scrittura Ed è stata un'esperienza bellissima Che ricominceremo adesso il 5 agosto Con i cappotti di lana, le sciarpe e i cappelli Molto contenti E poi nulla insomma Mi piace anche questo fatto che ho avuto la fortuna di promuovere il film di Maria Sole E la serie nello stesso periodo Perché in qualche modo mi... Per me è come far parte di un progetto che ha comunque qualcosa in comune Non soltanto per Ivan ma anche perché è un argomento che tratta le donne, la maternità Personaggi femminili corposi finalmente molto raccontati Quindi l'universo femminile interessante finalmente affrontato insomma come si deve Ecco tu hai accennato a questa novità dell'universo femminile raccontato in questo modo Viaggio Sola ne è un esempio lampante Pensi che stia... Something is changing Stia cambiando qualcosa anche magari in quello che leggi di cineggiature Nei progetti che ti vengono offerti? Guarda io credo di sì Anche perché un pochino noi italiani siamo un po' un grege Nel senso che basta che uno appunto ha il coraggio di fare la mossa e poi molti seguono Comunque quest'anno Valeria Colino con Miele Insomma anche a parte il nostro insomma ci sono state sceneggiature che ho letto dove finalmente Ovviamente il personaggio della donna vive di luce propria e non sempre al servizio del personaggio maschile Poi insomma non è che non bisogna raccontare la coppia non bisogna raccontare Però ecco che ci sia magari un equilibrio forse diventa tutto più interessante Comunque secondo me sì qualcosa sta cambiando Anche il fatto che ci siano piano piano delle registe donne che si stanno affermando Anche il fatto che ci siano piano piano delle registe donne che si stanno affermando